benvenuti sul mio canale io sono la fatta tutto fare nel video tutorial che sta per cominciare vi mostro come realizzare questa bellissima bustina con polsiera questo è il periodo in cui cominciate a cercare i vostri pensierini di natale e vi do questo primo spunto in questo autunno 2024 una bustina con polsiera è facilissima da realizzare quindi un progetto adatto anche per le principianti soprattutto con questa idea cerco di rispecchiare le richieste che mi fate perché per centrare l'obiettivo un regalo di natale per voi dovrebbe essere veloce facile ed economico quindi probabilmente abbiamo centrato tutte e tre gli obiettivi si lavora pannello come vedrete tra un attimo durante il video tutorial si vanno ad applicare dei bottoni a calamita all'esterna ma potete divertirvi tantissimo nella personalizzazione io ho scelto come vedrete tra un attimo il sublime lux per realizzare questo progetto ma potrete scegliere qualsiasi altro filato qualsiasi altro colore la patta la potete personalizzare sia coi punti di lavorazione sia con dei bottoni gioiello che con delle applicazioni ad uncinetto ma la parte più divertente quella più bella in assoluto è quella della polsiera disponibile sul sito della testina in tantissimi colori può riportare l'incisione del vostro nome o del nome della persona a cui vorrete regalare questo pensierino che si fa in pochissimo tempo non ci sono troppi accessori e sarà un regalo super personalizzato da utilizzare veramente tutto l'anno a questo punto vi lascio allo corrente e poi al tutorial per realizzare la mia bustina ho scelto il filato sublime lux nella variante turchese ma qualsiasi altra variante colore o prodotto per borse potrà andar bene per realizzare questo progetto avrete poi bisogno di una polsiera a forbici uncinetto del tre e mezzo e per quello che riguarda la chiusura io ho scelto due bottoni a calamita da cucire prendiamo il nostro uncinetto il nostro filato ed iniziamo la lavorazione il vostro obiettivo se volete realizzare la pochette grande quanto la mia sarà di caricare tante catenelle fino a raggiungere una misura di 15 centimetri con il filato sublime lux la mia mano e questo uncinetto 3,5 io andrò a caricare 25 più una catenella per voltare quindi 26 catenelle in tutto quindi tenete accanto a voi il centimetro prendete il filo da voi prescelto e man mano che andate a caricare le catenelle verificate di raggiungere la misura che vi ho appena detto quindi 15 centimetri pertanto inizierete a ripassare la catenella appena avviata eseguendo per ciascuna una maglia bassa fatta la quale avrete avviato il vostro lavoro questa è l'altezza della vostra borsa adesso lavoriamo per la lunghezza intanto facciamo una catenella ed entriamo nel primo punto eseguendo di nuovo una maglia bassa da questo momento in poi potrete continuare a maglia bassa io voglio farvi vedere invece una variante del punto basso rientrando in una delle due costine del punto appena lavorato entriamo poi nel punto di base peschiamo il filo prima la passiamo sotto la costina e poi chiudiamo la maglia bassa ma rivediamolo con attenzione passiamo sotto la costina più esterna entriamo nel punto peschiamo il filo lo passiamo sotto la costina e quando abbiamo due asole sull'uncinetto le chiudiamo insieme quindi di nuovo prendiamo la costina più a sinistra entriamo nel punto di base successivo peschiamo il filo lo passiamo prima sotto la costina poi eseguiamo la maglia bassa una variante semplicissima del punto basso che vi va però a dispensire leggermente la lavorazione non tanto quanto il punto termico ma vi assicuro che anche questa lavorazione ha una sua buona compattezza per cui lo dobbiamo considerare alla strega dei punti stuoia o dei punti tessuto si può utilizzare ovviamente anche nell'ambito dell'abbigliamento quindi costina più a sinistra delle due che chiudiamo insieme si va nel punto di base si pesca il filo si passa sotto l'asola poi si chiude delle due asole che abbiamo appena chiuso riprendiamo quella più a sinistra entriamo nel punto successivo e procediamo in questo modo quindi costina maglia di base il filo passa sotto al punto sotto la costina e poi si esegue la maglia bassa la lavorazione sarà così su più punti di questa pochettina perché la dovremo dividere praticamente in quattro sezioni questa è solo la prima siamo alla chiusura della riga quindi di nuovo entriamo nella costina nella maglia di base passiamo il filo sotto la costina facciamo il punto basso e ripetiamo fino all'ultimo punto a nostra disposizione quindi andremo a chiudere queste due maglie insieme faremo la catenella di separazione e andremo a ricominciare esattamente nello stesso modo il primo punto si lavora come una semplice maglia bassa quindi dal punto successivo ricominceremo la variante entrando nella costina nella maglia di base quindi prendendo le due costine del punto basso passate sotto l'asola e chiudete la maglia quindi passiamo nella costina prendiamo il punto di base passiamo sotto la costina chiudiamo la maglia bassa in questo modo lavorerete tutte le righe fino ad arrivare ad una misura di circa 20 centimetri così si presenta il pannello con queste bellissime righe verticali come detto la misura è di 15 centimetri per l'altezza e 20 per la lunghezza abbiamo realizzato la prima di tre sezioni adesso riprendiamo il filo sull'uncinetto ed eseguiamo la sezione numero 2 questa verrà lavorata solo a maglia bassa riprendiamo quindi l'uncinetto ed entrando nella costa retro di ciascun punto lavoriamo una maglia bassa la lavorazione in costa retro è fondamentale perché permette una piega naturale del pannello visto che dobbiamo realizzare due pieghe è necessario aiutarci con queste righe che lavoriamo in costa le righe da lavorare in costa saranno due e andranno a separare queste tre sezioni quindi noi abbiamo lavorato la prima sezione 15 per 20 con questa bellissima variante del punto basso terminato il pannello andiamo a procedere con la maglia bassa in costa retro come vi sto mostrando questa riga è fondamentale per garantire una piega ottimale del pannello quando avremo terminato questa riga in costa retro procederemo a maglia bassa per la seconda parte che sarà anch'essa di 20 centimetri quindi intanto io proseguo a maglia bassa in costa retro lavorando tutta la riga in questo modo quando terminiamo la riga in costa retro non dobbiamo fare altro che fare la catenella e voltare il lavoro ma intanto vi dimostro che già così vedete il lavoro si piega in modo spontaneo quindi questo è lo scopo della lavorazione in costa che è fondamentale a questo punto farete la catenella e tornerete a lavorare in righe di andata e ritorno a maglia bassa semplice lavorato il vostro pannello di 20 centimetri a maglia bassa vedete che si piega in modo spontaneo verso la prima parte già lavorata proprio grazie alla riga che abbiamo lavorato in costa retro quindi come detto anche il pannello lavorato a punto basso deve avere la stessa misura del precedente quindi deve arrivare a 20 centimetri le due estremità si devono pareggiare fatto questo lavoriamo la terza sezione che andrà ripiegata su quella appena lavorata a maglia bassa per facilitare la piega dobbiamo nuovamente ripetere una riga in costa questa volta però dobbiamo prendere la costa anteriore perché il pannello si piega in questa direzione quindi rifacciamo una riga a maglia bassa ma nella costa anteriore quindi nella costa davanti quella rivolta verso di voi e una volta realizzata questa riga lavoreremo la terza parte del pannello con il punto che abbiamo utilizzato nel primo pannello quindi abbiamo un pannello unico in realtà 15 per 60 ma suddiviso in tre parti la prima parte lavorata con la variante della maglia bassa la parte centrale solo a maglia bassa la parte finale di nuovo con la variante del punto basso o col punto che voi avete prescelto perché potrete ovviamente utilizzare qualsiasi altro punto di vostro gradimento procedo lavorando in costa anteriore una volta terminato il lavoro ricominciate con la catenella la maglia bassa nel primo punto e quindi con la variante che abbiamo visto nel primo pannello passando sotto la costina entrate nel punto passate sotto la costina lavorate la maglia bassa in questo modo lavorerete in righe di andate e ritorno per ulteriori 20 centimetri andando ad eseguire in questo modo la terza ed ultima parte del nostro pannello che come detto è diviso in tre parti da 20 quindi passo sotto la seconda asola quella più a sinistra presco il filo la passo sotto l'asola e faccio la mia maglia bassa è un punto semplicissimo che riesce però a creare queste righe verticali che sono un'alternativa alla variante del punto basso semplice per le principianti che trovassero complicato questo passaggio potete lavorare tutto a maglia bassa quindi come vedete questo pannello si ripiega su quello lavorato a maglia bassa e procedendo per altri 20 centimetri avremo terminato la prima parte del nostro lavoro quindi una volta realizzate le tre sezioni la prima e la terza lavorate con la variante della maglia bassa mentre al centro abbiamo solo la maglia bassa a questo punto cosa dobbiamo fare dobbiamo ripiegare il pannello andando a dargli il verso che otteniamo mediante le righe che io vi ho marcato come vedete possiamo piegare prima verso sinistra e il terzo pannello si ripiegherà verso destra creando una specie di soffietto vedete la piega è naturale non la dobbiamo forzare per merito delle righe che abbiamo lavorato in costa dobbiamo fare una z semplicissima una z di zorro una volta fatto questo tagliatevi un bel pezzo di filo perché dobbiamo fare un'unica cucitura che comprenda praticamente tre lati della nostra bustina quindi vi prendete un ago da lana con la punta arrotondata prendete il vostro pezzo di filo che vi siete lasciati e andate a fare una cucitura su tre dei quattro lati a vostra disposizione in questo modo andiamo a chiudere questa sorta di soffietto che abbiamo realizzato a vostra disposizione avete proprio le righe in costa che vi faciliteranno nella presa dei punti e quindi nella cucitura è una cucitura semplice praticamente prendiamo le costine che abbiamo nella riga sottostante passiamo il nostro filo e ripartendo sempre dall'alto e andando verso il basso prendiamo tutte le costine a nostra disposizione eseguendo una cucitura semplice piuttosto invisibile in questo caso la cucitura è preferibile farla con l'ago piuttosto che con l'uncinetto perché si vedrebbe il rilievo del punto vediamolo più da vicino vedete le costine sono a vostra disposizione quindi si vedono molto bene prendete la costina in alto e scendete in quella più in basso tirate per bene il filo quindi di nuovo costine in alto costina in basso ed eseguite la vostra cucitura come detto lavoreremo su tutti e tre i lati con un'unica cucitura partiamo da questo punto lavoriamo poi la base e risaliamo sull'altro lato ancora quindi è un pannello con due pieghe che vi permetterà di avere una bustina che all'interno ha praticamente due scomparti una volta che avremo fatto le cuciture potremo andare a realizzare la patta sulla patta potete scegliere se mantenere lo stesso punto di lavorazione o no vedete queste sono le costine cerco di ingrandirvi l'immagine in modo che possate vedere correttamente i punti quindi come vedete la lavorazione in costa ci aiuta sia a piegare i pannelli che poi a fare la cucitura siamo per terminare intanto questo lato ho messo il marker solo per evidenziare la riga che avevamo fatto in costa non ha alcuna funzione se non quella di dare visibilità a quella riga di lavorazione quindi può essere tolto o non messo affatto intanto vedete che la cucitura si nasconde molto bene nella trama del lavoro questa è la vostra piega quindi adesso andiamo a fare la cucitura nella parte sottostante andando a prendere però le coste su tre strati in realtà perché abbiamo il pannello centrale che deve essere preso insieme a quelli più esterni quindi prendete una costa per ognuno dei tre strati e tirate molto bene il filo affinché la cucitura sia ben salda che dobbiamo tenere insieme ovviamente tre strati per questo progetto potete usare il sublime semplice il sublime lux come nel mio caso potete usare il rowen potete utilizzare qualsiasi cordino di vostro gusto eviterei magari dei filati troppo spessi visto che la dimensione di questa bustina non è importante quindi perdereste di capienza all'interno andando con queste misure ad utilizzare un filo di spessore importante questo è un consiglio poi ovviamente i gusti sono gusti quindi prendete una costina per ognuno dei tre strati quando avete tre asoline vedete sul vostro ago tirate e procedete in questo modo finita la sezione della base continuo e risalgo sul lato opposto proseguendo come sull'altro prendendo i punti praticamente sul bordo e sulla costina a mia disposizione così facendo cucio tutte e tre i lati così da potermi poi dedicare alla patta così facendo dopo la cucitura abbiamo chiuso tre lati abbiamo una bustina con due scomparti adesso andiamo ad eseguire innanzitutto un giro perimetrale a maglia bassa che serve per rendere più regolari i bordi in questo modo non si vedranno le righe di andata e ritorno è consigliabile partire proprio dall'angolo in modo che stiamo poi già in posizione per andare a riavviare la patta quindi parto dall'angolo così che dopo il punto di chiusura posso cominciare la patta nella riga successiva eseguo una maglia bassa per ogni punto quindi mi nascondo la codina iniziale mettendola parallela al lavoro e vado a lavorare a punto basso su tutto il perimetro quindi sui pannelli più esterni ignorando totalmente il pannello centrale quindi prendete i vostri punti non si dovrebbero costituire dei buchi di lavorazione perché la lavorazione di questa variante del punto basso risulta molto compatta quindi mantenete integra la texture del vostro lavoro terminato un lato ovviamente non dobbiamo tagliare il filo ma possiamo tranquillamente procedere perché il bordo superiore risulta libero e quindi continuate il vostro giro completo a maglia bassa quindi non c'è bisogno di lavorare le due sezioni separate quindi continuiamo fino a ritornare al punto di partenza ho terminato il giro andiamo a fare insieme la chiusura a maglia bassissima come vedete intanto nella parte opposta ho collocato un marca punti perché adesso dobbiamo lavorare per realizzare la patta quindi dapprima andiamo a chiudere il giro con la maglia bassissima facciamo una catenella e ricominciamo la riga lavorando a maglia bassa in costa retro la costa retro anche qui serve per favorire la piega naturale della patta che si andrà a piegare in modo spontaneo sul davanti della nostra bustina faremo la riga fino al marker e poi tornando indietro potremo scegliere il punto di lavorazione io andrò a replicare quello appena eseguito cioè la variante della maglia bassa per non sovraccaricare questo pezzo lasciarlo sufficientemente neutro affinché ciascuno di voi possa vederci quello che desidera ovviamente per personalizzare la borsa oltre che scegliere il filato il colore potrete scegliere soprattutto sulla patta un punto di lavorazione diverso più caratterizzante e particolare per rendere unica ovviamente la vostra bustina procedo fino al marca punti quindi lavoro le ultime maglie a mia disposizione e fatto questo elimino il marker lavoro l'ultima delle maglie a mia disposizione ho terminato la riga in costa adesso non devo fare altro che fare la catenella voltare e ricominciare questa variante del punto basso non ha multiplo quindi si lavora esattamente con i punti a disposizione vi ricordo che il primo punto si lavora semplice e poi prendendo la costa si entra nella maglia successiva si prende il filo si passa sotto la costa e poi si chiude la maglia bassa proseguirete in questo modo in righe di andata e ritorno per circa 12 cm se scegliete un punto diverso dal mio fate attenzione al multiplo di lavorazione accertatevi di avere sulle maglie di base il numero di punti che vi servono ho proseguito per circa 12 cm come vedete la patta si ripiega tranquillamente sul davanti della vostra borsa adesso andiamo a realizzare tre righe andando ad eseguire una riduzione all'inizio e alla fine di ogni riga quindi partiamo invece di entrare nel primo punto dobbiamo semplicemente entrare nel secondo nell'eseguire la prima maglia bassa in questo modo realizziamo un punto in meno quindi si ricomincia passando sotto la costina più esterna nel punto passiamo il filo sotto la costina realizziamo la maglia bassa proseguiamo in questo modo fino a trovarci nella terz'ultima maglia di base poi faremo insieme la riduzione anche alla fine della riga alla fine della riga quando mancano due punti alla chiusura non dovete fare altro che passare l'uncinetto sotto la costina ed entrare nell'ultimo punto lasciando il penultimo libero e lavorate la vostra maglia in questo modo abbiamo saltato una maglia in partenza una maglia in chiusura adesso voltiamo e ripetiamo nuovamente saltiamo la prima maglia di base ed entriamo nella seconda eseguendo la prima maglia bassa quindi fatta la maglia si ricomincia con la lavorazione si passa sotto la costina nel punto successivo e si lavora ovviamente alla chiusura della riga di nuovo andremo a saltare la penultima maglia e chiuderemo nell'ultima così facendo andremo a lavorare in tutto tre righe per ottenere dei bordi leggermente più stondati una volta stondati i bordi andiamo a fare un giro a maglia bassa andiamo a ripassare il bordo andiamo a ripassare la parte diciamo del davanti della bustina e chiudiamo dove abbiamo iniziato la riga quindi eventualmente questo primo punto lo potete marcare lavoriamo una maglia bassa per ogni punto a nostra disposizione iscriviti al nostro canale terminato il lato relativo alla patta il filo non va tagliato ma si prosegue andando praticamente sul davanti della vostra borsa lato che avevamo già ripassato a maglia bassa quindi eventualmente io lo continuerò a lavorare a punto basso ma se non vi piace potete fare questa riga maglia bassissima solo in questa sezione fatta la quale andrete ovviamente a risalire sulla patta fino a chiudere nel punto di partenza con una maglia bassissima e avremo di fatto terminato il nostro lavoro quindi non abbiamo fatto altro che un pannello suddiviso in sezioni che piegate e cucite opportunamente danno forma a questa bellissima bustina a questo punto ho inserito un'etichetta handmade e questi bottoni a calamita sono quelli da cucire perché altrimenti le alette si vedrebbero dal dritto prendete il filo in nylon quello che utilizziamo per fissare le clic clac e andate a posizionare le prime due quelle in alto sulla patta la cucitura può ripassare tranquillamente sul dritto del lavoro perché il filo in nylon trasparente non si vede quindi passate nei buchini nelle asoline del bottone con il vostro filo almeno due tre volte anche quattro volte per ogni asolina in modo da assicurare al meglio questi bottoni che ovviamente per il loro utilizzo saranno molto sollicitati quindi passerete in orizzontale sotto due tre punti in modo da andare verso il forellino successivo e anche qui tranquillamente passate dentro il forellino sbucate sul dritto della vostra patta vedrete che non si vede niente sto utilizzando il filo da 0 20 va bene anche quello da 0 25 e fissate in questo modo prima i due bottoni in alto poi quelli in basso quando dovete passare da un forellino sbucate sul dritto della vostra patta all'altro fate un punto in orizzontale sotto le maglie e poi fissate la quarta asolina tirate per bene il filo in modo da assicurare le vostre chiusure al lavoro la bellezza del punto che vi ho fatto vedere oggi che non ha dritto il rovescio pertanto quando andiamo ad aprire la nostra bustina il punto all'interno non è diverso da quello che abbiamo all'esterno quindi manteniamo la texture invariata quindi non c'è dritto il rovescio quando avete finito la cucitura fate un paio di nodini andate a nascondere il filo all'interno della lavorazione nello stesso modo andrete a fissare i due bottoni più in basso per farlo io faccio semplicemente in questo modo vado innanzitutto taglio i fili ok che sono rimasti liberi poi dopo aggancio direttamente sistemo le calamite su quelle già cucite ripiego quindi a questo punto vado a bloccare col dito le due sezioni che devo cucire quindi le metto diciamo in posizione potete lasciare un segno mettere un ago nel punto in cui dovete fissare e le vado a cucire intanto avevo cucito anche il bottone gioiello questo è l'ultimo passaggio per completare il progetto e siamo al termine del nostro video tutorial una volta applicati i bottoni questi da cucire sono semplicissimi da applicare perché si possono cucire facilmente con il filo trasparente all'interno abbiamo due scomparti e una volta cuciti i bottoni possiamo mettere direttamente qui sulla lavorazione stessa la nostra polsiera cerco di rispondere a quelle che potrebbero essere le domande che solitamente trovo in fondo ad ogni video che altro filo posso utilizzare qualsiasi cordino per borse io ho scelto il lurex ma qualsiasi cordino per borse andrà bene l'importante che regga il lavoro in modo che la bustina non si deforme i bottoni a calamita ci sono sia oro che argento e di varie misure potete cambiare le misure della vostra bustina a vostro piacimento potete modificare il punto di lavorazione della patta scegliendo anche dei punti più complessi se volete dare un aspetto più sofisticato a questo accessorio oppure mettere dei bottoni gioiello più particolari o addirittura creare delle applicazioni all'uncinetto se poi un regalo di natale lo avete pensato per una persona fate incidere il nome di questa persona sulla polsiera allora sì che avrete fatto un regalo super personalizzato io spero di avervi dato un'idea utile non faccio altro a questo punto che invitarvi come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite io vi ringrazio per avermi seguito e vi rimando così al prossimo video tutorial